Siamo con i ragazzi e signori, scomparate la pista, spavendo ogni concorrente, grazie. Giovanna, a tuo dietro, mettere a me i cartaglioni, grazie. Allora, ricordiamo il final, sono, posso arrivare in tutte e due. ecco, se Fida sulla loro destra allora in categoria Fida sulla destra, grazie Fida sulla destra, però poi non seguito la carnesana sulla sua sinistra il camminato cremonese sempre sulla destra scusa, il cognome Cagliani Cagliani, no, non c'entra, Cagliani, buona Luca questo qui sempre è Fida guardate il cartello però, leggere il cartellino Gia, Giole, Cavallic Giole, Corrado, Brasciano Giorgio Assoluto, Cagnone, Bononi 5 Corrado Questa è una C Vedaldi Per favore, signori, sono uscito dalla pista, ragazzi, fuori dalla pista, grazie Allora, Inter l'Andernesano sulla sua sinistra, il comitato cremonese sulla destra Fidel, maschile e femminili, tutti sulla sinistra, grazie Allora, sulla sinistra i concorrenti dell'Inter l'Andernesano, sulla destra i concorrenti dell'Andernesano Rota Vieni qua, vieni qua Bardot, catella la D Catella la F, Faggiani Catella la F, Faggiani Fidal Mauro, bravo Ma Catania, scusate, Catania o Mauro Catella la F, 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 F Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gian, 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 guarda qui, guarda me, il microfono. Fuori tutti dal campo, per favore. Allora, Gini Bettinelli, tutti i ragazzi, per favore, ci hanno dato di uscire dal campo, però si può giocare. Allora, intanto... Grazie a tutti. Grazie a tutti.